DPCM è una sigla divenuta a tutti familiari in quest'anno e mezzo di pandemia, quattro lettere che preannunciavano l'arrivo di nuove norme anti-covid a firma del presidente del Consiglio. Ma qui al Teatro Lembo di Canusa di Puglia raccontano tutta un'altra storia. Si scrive sempre DPCM, ma si legge Dante per cambiare il mondo. A 700 anni dalla sua morte, il sommo poeta verrà ricordato attraverso una produzione video in tre puntate, realizzata aprendo eccezionalmente il teatro comunale e i luoghi della cultura canosini, sino a poco tempo fa ancora chiusi per via dell'emergenza sanitaria. A salire in cattedra con lezioni originali ed appassionanti dedicate al padre della lingua italiana sarà il professor Trifone Gargano, docente e critico letterario, nonché studioso e divulgatore dell'opera dantesca. La produzione sarà divisa in tre parti e trasmessa a partire dal lunedì 14 giugno sui canali social del comune di Canusa di Puglia e del Teatro Lembo. Una splendida occasione spiegano dall'amministrazione comunale per promuovere le bellezze di Canusa e vedere all'opera artisti del territorio insieme ad attori di fama nazionale ed internazionale come Sebastiano Somma, Pino Quartullo, Federica Luna Vincenti e la ballerina Elisa Barucchieri. In occasione del settimo centenario della morte di Dante abbiamo voluto presentare tre lezioni, tre appuntamenti, tre lezioni spettacolo da questo teatro in maniera singolare dove il professor Trifone Gargano, ideatore di questo progetto, interloquisce con dei cartonati che rappresentano la cultura italiana a 360 gradi. E tutto questo calato nel territorio canosino, ricco di archeologia, di storia da raccontare. Il progetto curato dal professor Trifone si preannuncia come un entusiasmante viaggio in chiave pop tra inferno, purgatorio e paradiso per scoprire quanto sia ancora incredibilmente attuale l'opera di Dante. Un Dante inedito, un Dante pop, un Dante rock, un Dante cioè che agisce a livello multicodale ancora oggi, nonostante i 700 anni che ci dividono da lui, continua a ispirare fumettisti, romanzieri, cantautori, persino, non facciamo nomi, brand alimentari che mettono sul mercato gelati intitolati Inferno, Purgatorio, Paradiso. Cosa significa? Questo non me lo possiamo fare. Il Pan degli Angeli, per esempio, è citato nel Paradiso, Dante dice qui si manuca lo Pan degli Angeli, eccetera. Significa che Dante è presente nella vita di tutti i giorni per illuminare la nostra vita. E in questa età così disastrata dalla pandemia, mi piace ricordare un verso del canto sedicesimo dell'Inferno, tornare a rivedere le belle stelle. In questo verso Dante mette pure l'aggettivo, le belle stelle. Con l'iniziativa Dante per cambiare il mondo spiegano dal teatro pubblico pugliese, partner del progetto, riaprono i luoghi della cultura e si torna finalmente a parlare di una nuova stagione di spettacoli. Troppo siamo stati costretti ad essere lontani dal nostro pubblico, ma attraverso anche queste iniziative ci siamo fatti comunque vicini e prossimi. Chiaramente ora guardiamo positivamente all'estate, alla ripresa delle attività e anche qui a Canosa, insomma, a breve riusciremo a presentare presto un'attività di una rassegna estiva, sempre in collaborazione con l'amministrazione. Le parole sono vive, cambiano, ogni istante i ragazzi guardano...